le meraviglie della natura il girasole e il mio orto vedete guardiamolo piano piano dietro questo è un'opera d'arte naturale avete mai visto un'opera d'arte naturale come il girasole quest'anno seminerò il prossimo anno seminerò molti girasoli queste sono le foglie vedete la grandezza naturale ci avviciniamo vedete il centro il contorno la parte posteriore incantevole bellissimo l'anno scorso ho seminato i girasoli quest'anno non ho seminato niente i girasoli questo è rinato spontaneo era rimasto qualche seme sotto c'è anche quest'altro girasolo questo non maturo e qui vicino abbiamo questi magnifici pichi vedete ottimi abbondanti